Il nuovo focolario di peste suina africana, individuato venerdì in un allevamento regolare di Villa Grande e Srisaila, a tre mesi dall'ultimo individuato in Sardegna, sottolinea se mai ce ne fosse bisogno che occorre non abbassare la guardia e che successi ottenuti in questi ultimi anni vanno consolidati. L'unità di progetto per l'eradicazione della peste suina africana sabato ha provveduto ad abbattere tutti i 27 maiali presenti nell'azienda. La conferma che si tratti di peste suina è arrivata dall'Istituto Zooprofilatico Sperimentale della Sardegna che ha effettuato i controlli di laboratorio sui campioni prelevati dai veterinari del Servizio di Sanità Animale della ASL di Lanusei su un capo morto in azienda alcuni giorni prima. Che ci sia la necessità di continuare con i controlli e gli interventi di depopolamento è arrivata sabato sempre da Oliena dove nove maiali bradi e regolari, la cui presenza è stata segnalata dai carabinieri, sono stati abbattuti. La settimana scorsa il Presidente della Regione Francesco Piglia l'aveva presentato al Commissario Europeo per la Sicurezza Alimentare gli importanti risultati conseguiti nella battaglia che dura ormai da 40 anni per eradicare la peste suina africana dall'isola. Peste suina che impedisce ad un settore tradizionale e importante dal punto di vista economico per la Sardegna di dispiegare tutto il suo potenziale. Da Bruxelles è arrivato apprezzamento per i successi raggiunti e l'invita a continuare per arrivare ad una definitiva sconfitta dalla peste suina africana. Una lotta lunga e difficile e complicata ma mai come in questo momento la Sardegna è vicina a vincerla. Grazie. 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 Grazie.